Allora, temiamo la chat Il feed attività qui E la chat qui Esatto Sgarra fiesto E siamo pronti per una nuova chiacchierata Allora, vediamo un po' che si dice Era da un sacco di tempo Che non incappavo nella Nella parola soluzione La soluzione di Staffield La soluzione Bellissimo Riflettiamo un attimo su questa cosa Forse il termine soluzione Non va benissimo per Un gioco come Starfield No? La soluzione Secondo me è una cosa che nasce Soluzione Per le avventure grafiche Tipo Cioè i giochi dove Tu devi superare degli enigmi Per andare avanti E allora c'è la soluzione Perché La soluzione è giusto come termine La soluzione è degli enigmi Che ti permettono di andare avanti La soluzione di Starfield Secondo me guida è meglio Bello però Soluzione è diventato un termine Però era da un sacco di tempo Che non ci riflettevo su questa cosa Ma è diventato un termine Che significa Guida Cosa c'è da fare nel gioco Elenco anche di segreti E robe di questo tipo Bello Soluzione Soluzione Usato così Dopo ve lo faccio vedere Sto guardando su multiplayer Usato in questo modo Mi ha un po' Spiazzato Però bella E soprattutto non lo sentivo Da un sacco di tempo Soluzione Ieri volevo leggere Insieme a voi Questa intervista ID At Xbox ID at Xbox E un'altra Che però adesso ho perso Questa qua Il capo del match Ho ritrovato Ma perché? C'è questa notizia Fantastica Una mod Sostituisce il logo Bethesda Con quello Dei Playstation Studios Di Sony Così Bellissimo La voglio vedere Allora Chi c'è? Dan Stilo Caraibi Gaucci Mi illustri il suo pranzo Dice Dan Stilo Allora Oggi pranzo leggero Dan Stilo Una minuscola scatoletta Di tonno Leggero Di quelle con Quelle scatolette Con meno olio Perché stasera Invece Ci sarà pizza Quindi un pranzo Di contenimento KJ Walter 5586 Caraibi 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 Allora Ragazzi Voglio vedere Voglio guardare Insieme a voi Le robe Quindi Io direi Cominciamo Subito Sigla dai Anche se Deve arrivare ancora Qualcun altro Sigla Sigla Caribi Gente Bentornate Bentornati Sul canale Twitch di walone ringraziamo che c'è presidio per lasciarci lo spazio dell'introduzione così possiamo già chiacchierare anche se ormai cominciamo proprio subito con la sigla direttamente vi chiederei di dirmi se l'audio è ancora ok se come poi come l'avevamo sistemato ieri io intanto vado a controllare i settaggi proprio per questo stesso motivo i filtri soprattutto che abbiamo usato ieri sono tutti ancora attivi quindi il risultato dovrebbe essere quello è ancora molto radiofonico vi piace sempre va bene fatemi sapere e nel frattempo è arrivato fader pio buongiorno con l'ag a te ivo sciandolo 84 caraibi non mi ricordo chi mi aveva consigliato il grottino alla garbatella ma lo ringrazio di cuore alla faccia di vito che non mangia la carbonara ristorante quindi il grottino alla garbatella è piaciuto a ivo sciandolo 84 non ricordo neanche io chi te l'aveva consigliato probabilmente se l'ho sviluppato una chiacchiera su sta cosa mi piace un sacco questo fatto che stai riportando vito juvara caraibi eccolo qua vito juvara apprezza l'orario che non è ancora 14 e 30 ma è già decisamente prima delle 15 addirittura mancano ancora tre minuti alle 15 e siamo già dopo la sigla a leggere la chat e a chiacchierare bravo vito juvara che apprezza fabrizio balconi caraibi ualo e ciao anche a vito juvara per l'appunto caraibi fabrizio dargo 77 caraibissimi a te fra bx caraibi dan stilo questo perché sono passato da un 78 chili prematrimonio ad un 92 chili a marzo sono andato dalla nutrizionista e il mese scorso sono ritornato a 78 wow da marzo cioè aprile maggio giugno luglio agosto e basta perché dici il mese scorso in cinque mesi è perso 14 chili potente quindi è da poco che mi all'alimentazione prima mangiavo quello che mi mettevano davanti senza pensare a nulla cosa che io ho fatto per circa 43 anni e molto spesso oltre a mangiare tutto quello che mi mettevano davanti quando dovevo essere io a decidere cosa mettermi davanti e questo è capitato per diciamo un sacco di tempo nella mia vita dagli anni 2000 per la maggior parte del tempo era questo il criterio e io sceglievo sempre cose folli oltretutto quindi la mia alimentazione era un po neanche randomica proprio molto spesso negativa quindi però è stato divertente è stato bello uguale quest'anno sarai di nuovo a lucca con sony chiede gauci non lo so gauci non lo so non lo so non c'è ancora niente in programma per la casa dei player l'anno scorso stato fantastico veramente una un'esperienza bellissima in quella cupola fantastica costruita da playstation italia piazza anfiteatro a lucca proprio bello due live al giorno più altre attività ambientazione spettacolare era la prima volta che andava a lucca anche se per qualcuno può essere sorprendente che uno che con le mie passioni il mio tipo di lavoro e eccetera non fosse mai andato a lucca prima dell'anno scorso invece era così ed è stato molto bello anche per questo ma non si sa se quest'anno si rifarà senza patire mai la fame dice dan stilo ottimo mi racconti un po bene o male che cosa hai mangiato in questi mesi visto che hai perso 14 chili senza patire la fame hai fatto sicuramente dei sacrifici è impossibile ottenere dei risultati di questo tipo senza un regolamento e senza seguirlo perché è ovvio che qualcosa devi fare però è anche vero ci credo perché anche per me è stato così considera che io sono io due volte nella mia vita ho perso circa 20 chili e in più dopo la seconda volta sono riuscito per cinque anni poi a mantenere un certo peso e anche però senza non solo senza patire la fame ma senza neanche rinunciare a parecchi sfizi quindi so che si può fare tranquillamente quello che hai fatto comunque ma che non è facile dargod77 walon ma solo io ogni volta che in tv sento nominare caivano capisco caibano e penso a te no non credo dargod anche se in questo caso come sempre al ma solo io si risponde come sto facendo ma c'è da dire in questo caso che non moltissime persone nel mondo innanzitutto non tantissime persone nel mondo in tv sentono nominare caivano voglio essere secondo me in italia e forse ancor meglio se no beh negli ultimi giorni in italia basta però insomma al sud capita sicuramente di più in campania capita ancora di più però è vero che in italia può bastare essere in italia negli ultimi giorni per aver sentito nominare caivano per almeno un motivo particolare e quindi un po si restringe no rispetto a tutto il mondo ma poi in particolare quello che dici tu sentire caivano e pensare caibano tra l'altro dark god ti segnalo che caibano si scrive con la cappa caiba caibano si scrivono con la cappa e sentire caibano sicuramente è una cosa che restringe un po il campo ma sono sicuro che sia capitato a molti altri cioè ad alcuni altri ecco mettiamola così branchia dice io ho perso 70 chili in un giorno mia moglie mi ha lasciato dice è quasi romantico questa la cosa detta così la preferisco a tagliati una gamba per perdere velocemente 14 chili queste cose così è bello questa cosa ho perso 70 chili in un giorno mia moglie mi ha lasciato senza attività fisica dice da un stilo anche io assolutamente uguale a senza attività fisica hai perso questi 14 chili in cinque mesi senza attività fisica in particolare cose folli del tipo definisci folli dice fabrizio balconi ma cose folli cioè mangiavo molto usando i servizi di delivery e prendendo veramente qualsiasi cosa da hamburger con patatine fritte a risotti che ti portavano a casa a robe fritte panzerotti fritti che ne so empanadas cioè qualunque cosa pure se pizza pizza volontà naturalmente però la pizza anche adesso la mangio continuamente e l'ho mangiata per tutti i cinque anni nei quali sono riuscito a mantenere lo stesso peso in estrema serenità la pizza se mangiata con criterio e poi mi spiego cosa intendo con mangiare la pizza con criterio secondo me non incide tantissimo nella dieta è solo un un carico che può essere a volte eccessivo di carboidrati però non è molto più grave di così si può gestire da per esempio una marinara che non ha praticamente grassi la marinara è pomodoro origano aglio basilico e olio l'olio e il grasso non c'è è tra solo un sacco di carboidrati però se tu mangi una marinara a pranzo per dire poi cammini tanto e la sera fa una cena leggera è una cosa che puoi fare anche sicuramente più di una volta a settimana tranquillamente tranquillamente se non mangi tanta pasta per nella settimana se non mangi la pasta tanto per cominciare e mangi tre volte la pizza a settimana puoi mangiare la pizza tranquillamente andare in pizzeria e prendere una frittatina due crocchè una pizza carica di robe tipo salumi eccetera e poi il dolce e due birre e l'amaro questo è il motivo per cui la pizza è uno sgarro che può diventare anche eccessivo però c'è una grossa differenza cioè guardate i due estremi una singola marinara mi siedo a tavola prendo una marinara e acqua naturale e questo è sono andato a mangiare la pizza dall'altro lato mi siedo a tavola e prendo una frittatina un crocchè una pizza diciamo nerano con aggiunta di pancetta come c'è su molti menu e non capisco perché la pizza nerano abbia la pancetta nerano nerano è un primo piatto tipico campano già molto carico molto buono naturalmente molto carico fatto di tanto formaggio e e zucchine fritte e molti fanno molte pizzerie fanno la pizza nerano che è più o meno questa stessa roba però sulla pizza oltre al fior di latte naturalmente che fa sempre da base per molte pizze e e però ci aggiungono la pancetta quindi diciamo questa pizza qua uno prende si siede a tavola e prende una frittatina un crocchè questa pizza nerano così carica con la pancetta eccetera beve due birre durante la serata e poi alla fine chiude con una cheesecake e poi l'amaro anche questo è uno sgarro pesantissimo innanzitutto di alcol per via delle birre e dell'amaro e poi di di tanto grasso dato dai fritti e poi per quello che c'è sulla pizza quindi è sono veramente due estremi sono due robe completamente diverse sedersi a tavola e mangiare una marinara accompagnata dall'acqua e sedersi a tavola e mangiare una frittatina un crocchè due birre una pizza nerano con pancetta e una cheesecake e un amaro e dire cioè parlarne superficialmente quando ci si confrontano le cose dice ma tu come fai a mangiare la pizza tre volte a settimana se io mangio tre marinare in una settimana non riesco ad non arrivo alla quantità di calorie che hai consumato tu in una sola serata di pizza mangiando quello che hai mangiato e questo è il fatto ciò si riesce tranquillamente a mangiare pizza anche all'interno di una dieta perché basta che mangi solo la pizza e una pizza semplice la marinara anche una margherita comunque può essere tranquillo uno sgarro abbastanza tranquillo e illustrami una giornata tipo di cosa mangiava wallo nei primi 43 anni e dopo dice dan stilo l'ho detto cosa mangiavo nei primi 43 anni era servizio di delivery con qualsiasi cosa e no in realtà non è proprio nei primi 43 anni naturalmente diciamo dai 24 ai 43 dagli anni 0 a 24 mangiavo comunque tantissimo però comunque stavo ad aversa e mangiavo belle robe caserecce anche quindi molto diverso molto ma anche molto meglio se vuoi ti mando la dieta dice dan stilo certo grazie mandala pure su telegram e però parla me ne parla neanche dai dan stilo fai anche tu una giornata tipo un paio di giorni diversi catania food lovers sarebbe sempre meglio fare alimentazione e sport insieme certo poi è bello che e sport ti è capitato di scriverlo senza spazio e quindi è diventato e sport che è che pure un fatto sembra alimentazione e sport insieme pure bello e non fare diete troppo stringenti si rischia di perdere massa muscolare dice catania food lovers massa muscolare non intendo muscoloni ma muscoli base necessari a sorreggersi interessante catania food lovers dunque aspettate che controllo una roba ecco qua caraibi paris come va era tipo 80 grammi di pasta o 90 alcuni giorni dice dan stilo sabato sera libero sono i 10.000 passi al giorno che fanno benissimo dice vito juvara su quello non c'è dubbio vito assolutamente movimento anche minimo perché per me ormai 10.000 passi al giorno è un movimento minimo sicuramente indispensabile tanto è vero che nel corso di questa estate ho sgarrato tantissimo ma proprio tantissimo e ho messo su anche qualche chiletto che che adesso cercherò di di perdere con calma ma è anche poco quello che ho preso in peso rispetto al modo in cui ho sgarrato perché dall'altro lato ho tamponato con il solito abbondante numero di passi quotidiano nell'ultimo anno la mia media è di 14.800 passi al giorno negli ultimi 12 mesi da settembre 2022 a settembre 2023 la media quotidiana di passi è stata di 14.800 al giorno che è una cosa che incide sul sullo stato di forma diciamo sul peso su su varie cose anche su fa bene anche proprio in generale camminare al di là dell'aiutarti a mantenerti dentro un certo peso per septron caraibi gaucci la pizza è un fattore di rischio assolutamente necessario dice gaucci assolutamente e ricordiamo dice catania food lovers non sono i grassi che fanno ingrassare ma il surplus calorico tu non cucini ualo dice dar god 77 nel caso per motivi di tempo o non ti piace per motivi di pigrizia dar god 77 ovviamente anche c'è motivi di pigrizia poi li possiamo leggere anche come motivi di tempo comunque ci vuole tempo per fare delle cose se tu quel tempo lo vuoi dedicare ad altre cose possiamo dire che è motivi di tempo però perché la metto in questo modo perché comunque se poi tu invece se una roba ti piace la vuoi fare il tempo lo trovi anche per esempio camminare mi piace ma richiede tempo però quel tempo io lo trovo cioè ce lo faccio uscire il tempo della camminata il tempo evidentemente cucinare non mi piace quanto camminare mi diverte l'idea di creare cose cucinando ringraziamo robbie fast intanto che rinnova il suo abbonamento con prime per un totale di 38 mesi grazie robbie un abbraccio digitale grazie mi piace l'idea di creare cose cucinando mi piace abbinare ingredienti per generare sapori articolati questa è una cosa fighissima quindi apprezzo la cucina apprezzo innanzitutto chi sa fare bene queste queste cose o meglio apprezzo il risultato di chi fa bene queste cose e mi piace assolutamente pensare quando mi ci metto di fare robe gustose però sì mi scoccia cucina c'è c'è un c'è quel pensiero di base di soprattutto tipo cucinare per me da solo no ma anche per due persone già per due persone è meglio però comunque al di là del numero di persone il fatto è io e questo veramente incide soprattutto quando lo fai per te da solo o per poche persone io ci perdo un'ora tipo a fare una determinata cosa per poi consumare questa determinata cosa in cinque minuti a livello di intrattenimento secondo me non funziona granché bene se pensate invece a altre cose a cui siamo abituati e che ci piacciono tipo la butto lì i videogiochi e tu ci metti un click a ottenere un videogioco e poi cgt te lo godi per ore c'è un rapporto effort nell'ottenerlo e intrattenimento guadagnato che è clamoroso nel caso dei videogiochi ed è folle nel caso della cucina cioè la cucina è un'ora di preparazione per cinque minuti di godimento non lo so c'è qualcosa che mi frena su strato preferisco è molto è molto più bello quando ti siedi in un locale e il cibo ti viene servito già preparato da qualcun altro che lo fa per lavoro quindi anche per lui no è un altro tipo di senso lui è lì a fare quella roba così buona così precisa così attenta perché è il suo lavoro quindi ha molto più senso secondo me così però è insomma sono pensieri chiaramente sono i miei poi c'è chi dice no no è bellissimo cucinare mi rilasso mentre cucino ok perfetto acqua naturale dice fabrizio balconi anche frizzante fabrizio balconi ma la pizza chiama birra e a gran voce è certo fabrizio balconi ma anche no la pizza per me chiama pizza io a me interessa il gusto della pizza pur essendo un grande appassionato di una serata in un locale dove mangi pizza e consumi anche altro anche quello mi piace mi piace il momento pizza e birra mi piace il momento iniziamo con i fritti continuiamo con pizza e birra chiudiamo con un dolce assolutamente però non è vero che mi si rovina la pizza se mangio solo la pizza anzi mi piace talmente tanto la pizza che per me mangiare anche solo la pizza è già un piacere importante cioè non è che mi che la per me la pizza non è legata a nient'altro le altre cose possono arricchire l'esperienza di un momento in cui sto mangiando la pizza e va benissimo ma la pizza il piacere della pizza per me non ha bisogno di nient'altro per essere per generare valore il morso di una marinara è un qualcosa nasce e si esprime in se stesso non non ha bisogno di un accompagnamento per andare bene quindi 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 no è questo il modo in cui si riesce tranquillamente a mangiare pizza senza la necessità di aggiungerci la birra a parte che anche il vino a me piace come accompagnamento alla pizza ma nessuna di queste cose la ritengo necessaria tra 18 giga dice branchia inizio baldur's gate sono elettrizzato tu lo hai provato no branchia lo spiegavo ieri siccome starfield è uscito al day one nel game pass e questa è una cosa che io apprezzo molto ed è una cosa di cui mi piace proprio godere e di cui mi piace chiacchierare no il fatto che in in quest'epoca abbiamo la possibilità di giocare giochi anche così grossi così importanti al day one in un abbonamento è una roba fighissima ora starfield e baldur's gate li possiamo anche mettere sullo stesso piano come importanza come calibro del prodotto uno dei due però viene proposto in questa modalità super nuova totalmente contemporanea e che mi piace un sacco e quindi io premio questa cosa e aspetto visto che tanto due giochi del genere non ha molto senso giocarli contemporaneamente quindi avrei comunque aspettato l'uscita sul console e però l'uscita sul console era contemporanea quella di starfield e allora visto che quei due giochi del genere non ha senso giocarli contemporaneamente avrei dovuto scegliere tra l'uno o l'altro avrei potuto tranquillamente scegliere la parità di condizioni avrei potuto tranquillamente scegliere baldur's gate anzi forse ero più attratto anche da baldur's gate non di tanto anche starfield mi interessa molto e quindi non essendoci però una parità di condizioni ma essendoci una grossa differenza nella proposta tra starfield e baldur's gate ho premiato la proposta di starfield perché è quella che mi piace anche proprio è una roba una filosofia che sposo molto volentieri quella dell'abbonamento mi piace proprio un sacco e allora viva starfield viva il game pass e viva anche l'esistenza di baldur's gate 3 però io dovendo scegliere scelgo di premiare un altro tipo di proposta e giocherò baldur's gate 3 quando costerà di meno quando eventualmente a un certo punto anche lui arriverà in un abbonamento il piccolo le boschi mamma mia starei male due giorni di una cena così però non so quale cena il piccolo le boschi non mi ricordo quando hai scritto questo messaggio ricordatevi ragazzi lo dico soprattutto magari a chi dovesse essere nuovo da queste parti che nelle nostre live io tendo a leggere tutta la chat in ordine cronologico voglio rispondere a tutti i messaggi se possibile o perlomeno al maggior numero possibile di messaggi e per fare questo leggo in ordine la chat quindi se poi c'è una risposta da dare che prende un po di tempo la chat intanto va avanti ma io rimango al messaggio per esempio del piccolo le boschi delle 15 mentre adesso sono le 15 e 08 mentre adesso sono le 15 e 23 quindi non posso ricordarmi che cosa si stava dicendo alle 15 e 08 quindi non posso collegare bene il messaggio del piccolo le boschi per cui chiedo un po a tutti di tenere in considerazione questa cosa e quando scrivete un messaggio cercate di renderlo indipendente cioè di renderlo autoconclusivo se è possibile e non legato a qualcosa che ho detto io precedentemente cioè cercate di riportare quella quella quel qualcosa anche all'interno del messaggio ovviamente ragazzi io lo dico ma non è che pretendo che che lo si faccia è solo per consiglio chi ha voglia non vi preoccupate scrivete quello che vi pare di base e divertente anche questa parte qua cercare di capire aspetta che cosa a che cosa si riferisce Gaetano menna jack caraibi caraibi apal 10 si parla di dieta l'ho iniziata dal primo luglio come sta andando apal 10 cosa devi fare quali obiettivi hai che tipo di dieta stai facendo parliamone dark god 77 a me piacerebbe camminare di più ma facendo spesso smart working è improponibile vorrebbe dire usare il mio poco tempo libero per camminare quando vado in ufficio invece faccio sempre dei pezzi a piedi apposta eh sì dark god devi farlo apposta devi camminare apposta è ovvio è ovvio devi quello quello che faccio io per mantenere una media di ben più di 10.000 passi al giorno è camminare apposta e approfittare di ogni singola occasione in cui può avere senso camminare per camminare cioè tipo devo andare in un posto ci vado a piedi o perlomeno facendo quanto più possibile di camminata a piedi per arrivarci cioè se io devo perdere un'ora di mezzi per andare in un posto cerco di ottimizzare vedo se facendo tipo mezzo perché molto spesso questa cosa è possibile a seconda di come sono strutturati i mezzi per il posto che devi raggiungere magari se controlli puoi fare mezz'ora a piedi e mezz'ora di mezzi e ci arrivi nello stesso tempo a volte succede oppure se è un'ora di mezzi e un'ora e mezza a piedi e scelgo un'ora e mezza a piedi a quel punto non spreco un'ora inutile a stare seduto in metropolitano in autobus e ci aggiungo mezz'ora è vero perdo mezz'ora in più ma ho fatto un'ora e mezza di camminata che è un qualcosa che mi serve non è invece stare seduto in metropolitana veramente non mi serve proprio a niente chiaro quindi un'ora di mezzi facciamo facciamo un esempio facciamo un esempio bello guardiamolo insieme allora facciamo così diciamo che io voglio andare dal duomo di milano a un posto allora vediamo un po' io mi trovo al duomo di milano facciamo un'altra roba prendiamo un'altra roba allora facciamo che io sono a piola alla fermata della metropolitana di piola no devo prendere lo devo fare bene questo fatto per far capire quando è che posso sono da gennaro rapido a roti carretti che è una pizzeria dove una pizzeria molto buona di milano per la pizza classica napoletana a roti carretti e facciamo che voglio andare facciamo che voglio andare un'altra pizzeria voglio andare che ho provato la pizza a roti carretti e poi ne voglio provare un'altra all'ilà dei motivi per cui succede questa cosa allora facciamo che voglio andare andare ai navigli ah voglio andare a provare 8 pizza al taglio ok allora indicazioni è una interessante pizza al taglio allora guardate qua per andarci con i mezzi come vedete ci sono soluzioni da 46 minuti basate sul camminare un po' a piedi prendere un tram tram e prendere la metropolitana per andare da 8 questa è da 8 pizza al taglio a gennaro rapido a roti carretti facciamo il contrario è la stessa cosa no naturalmente 44 minuti piedi metropolitana tram e un altro po' a piedi oppure 55 minuti autobus tram e un po' a piedi 54 minuti un'altra soluzione quella con la 90 la più semplice strutturalmente fai un po' a piedi poi prendi un autobus e poi prendi e poi continui un po' a piedi quindi tu hai soluzioni da 44 minuti 55 minuti 54 minuti anche 57 minuti con i mezzi quindi a seconda di quello che ti trovi più a portata di mano il tuo viaggio con i mezzi da gennaro rapido a roti carretti a 8 pizza al taglio ti impiega dai 44 ai 57 minuti dai tre quarti d'ori dai tre quarti d'ora all'ora quanto ci impieghi ad andarci a piedi? un'ora e venti ora questo è ottimizzare perché tu non ci pensi no normalmente una persona che non è abituata a camminare a questa cosa non ci pensa e quindi sembra che debba trovare il tempo di della camminata al di fuori di questa cosa che deve fare quindi magari una persona perde un'ora per spostarsi con i mezzi da una parte all'altra della città ora io ho messo due pizzerie per sfizio ma potrebbe essere che lui debba andare semplicemente da casa a un ufficio dove deve fare delle robe burocratiche no quindi lo deve anche fare per forza e cosa fa ci va con i mezzi perché dice come ci arrivo là vedo ci arrivo con i mezzi ok e ci metto 50 minuti ma 50 minuti tra 50 minuti con i mezzi e un'ora e 20 a piedi ma non è meglio un'ora e 20 a piedi così è vero che ci metti mezz'ora di più ma hai fatto la tua camminata questo è il è il concetto se tu applichi questa cosa a ogni situazione di questo tipo vedrai non mi ricordo adesso chi è che che aveva che ha fatto emergere un po' questo problema Dark God 77 dice stando a casa e non muovendomi tanto devo apposta camminare mentre quando andavi in ufficio riuscivo a metterci dei pezzi di camminata a piedi però ti capiterà di dover fare una roba di dover andare da qualche parte e vacci a piedi chiaro che in tutto questo in macchina teoricamente ci metti ancora meno però in macchina Google segnala 19 minuti per il tragitto che abbiamo visto prima 19 minuti però se tu hai la macchina che puoi sammonare come la cavalcatura di un videogioco ma di sicuro devi andare a prendere da qualche parte la macchina no? quindi tempo per prendere la macchina dove l'avevi parcheggiata o per prendere la macchina nel tunnel box di caso comunque questo è tempo sono questi sono 5-10 minuti per fare questa roba da aggiungere e poi mettici un quarto d'ora anche di tempo per parcheggiare più il tempo a piedi per raggiungere il posto dove devi andare dal parcheggio che hai trovato quindi questi 19 minuti di tragitto in macchina vanno arricchiti secondo me 19 minuti per fare da gennaro rapido a 8 questo tragitto qua 19 minuti in macchina eccolo qua in macchina 19 minuti raddoppia come minimo raddoppia per quello che c'è prima e quello che c'è dopo il tragitto in macchina cioè andare a recuperare la macchina prima e il parcheggio dopo ma come minimo raddoppia come minimo raddoppia quindi anche in questo caso secondo me se invece il fatto di camminare a piedi ti dà quella velocità di veramente a piedi è tutto equivalente a quello che devi fare e non ci sono nei mezzi ci sono i tempi d'attesa il fatto di dover raggiungere le fermate eccetera in macchina c'è la macchina nel box oppure la macchina parcheggiata e poi il parcheggio da fare quanto lontano dal posto in cui devi arrivare eccetera invece a piedi è tutto la conversione è uno a uno rispetto al tempo della camminata cioè ci vuole quel tempo per arrivare dalla lemera è quello basta fai quello e basta vai dal punto preciso dove parti al punto preciso dove devi arrivare questa cosa qua molto spesso anche proprio mentalmente è preferibile perché non devi pensare ad altre cose non devi pensare a quale mezzo prendere non devi pensare a raggiungere prima la fermata oppure nel caso della macchina non devi guidare non devi pensare a dove parcheggiare non devi annoiarti nell'attesa mentre trovi il parcheggio eccetera a piedi vai bam diretto nel posto dove devi andare a me piace un sacchissimo questa cosa qua questo è un vantaggio enorme secondo me del fatto di camminare a piedi rispetto a usare i mezzi o la macchina ovviamente va sottolineato che stiamo parlando di della mia situazione in città e quindi in una città tra l'altro come Milano che è tutta bella concentrica e come dire dove la distanza più grossa che ti può capitare da un punto interessante a un altro punto interessante non è mai esagerata e quindi volendo veramente ti puoi fare a piedi dei grossi pezzi di Milano cioè ti capita di fare a piedi dei grossi pezzi di Milano magari in altri posti il vantaggio della macchina o dei mezzi potrebbe essere più incisivo allora ho sentito un il suono di un ultramave che ha rinnovato il suo abbonamento con Prime per un totale di quattro mesi salutiamo il nostro ultramave e abbracciamolo digitalmente ringraziandolo per il supporto ma anche perché ci piace salutarlo dopo la chiacchierata di ieri sera dopo le tante chiacchiere otti di questi giorni che ricordiamolo tornano ogni giovedì alle 22 a meno che quando non c'è nessun a meno che da segnalare il giovedì alle 22 c'è una chiacchiera otti con ultramave nella quale potremmo però integrare ci pensavamo ieri sera anche un po' di di videogiochi comunque perché tanto alla fine a noi piace parlare di videogiochi anche se Mave non sta giocando tanto in questo periodo però comunque delle robe interessanti da dire sui videogiochi sul suo passato da videogiocatore potrebbero essere sfiziose dunque riprendo a leggere un po' di di chat dove eravamo rimasti c'era dark god che diceva questa cosa di quando lavoravo quando lavoravo camminavo di più ecco qua mister katana 74 caraibi hai giocato a starfield e baldur's gate tra i caraibi mister katana come spiegavo prima ho preferito iniziare starfield e rimandare baldur's gate 3 per un motivo molto semplice starfield è nel game pass e baldur's gate 3 va comprato invece intero non è non è solo una questione di è più conveniente starfield ma è proprio una questione di io voglio che funzioni in generale nel mondo dei videogiochi come funziona starfield mi piace quel tipo di cosa e quindi voglio anche premiare questa cosa quindi sto giocando a starfield e baldur's gate 3 lo farò più avanti e doom wz caraibi caraibi lo zen e il ciuchi lo zen 82 caraibi dargod 77 però non sempre è così dice dargod quando faccio il ragù ci metto ore ma poi una parte lo congelo e ce l'ho per mesi quindi vale la pena ok si questo tipo di ottimizzazione mi piace fader pio dice pizza chiama coca cola non birra per fader pio non vino non acqua ma coca cola io ripeto quello che ho detto prima per me la pizza non chiama nient'altro che la pizza cioè per me mangiare la pizza è il piacere di mangiare la pizza bere qualcosa mentre mangio la pizza è un altro fatto poi certo anche a me piace anche a me piace abbinare però mi vanno bene veramente tutte le cose il vino l'acqua la coca cola la birra va benissimo ma l'importante è mangiare la pizza per me e quindi questo mi permette tranquillamente di rinunciare a vino e birra per esempio perché non è che dico se vado a mangiare la pizza però poi a quel punto voglio anche la birra no ma assolutamente voglio la pizza perché voglio la pizza so distinguere le voglie e di discernerle separarle penso che quelli a cui piace cucinare dice Doom parte dell'intrattenimento è anche la parte della preparazione oltre che la degustazione sì sì immagino proprio di sì Doom deve essere per forza così altrimenti c'è qualcosa che non funziona deve per forza piacere cucinare oppure si dimagrisce con il semaglutide con tutti i rischi del caso non so cosa sia Pottopuk che cos'è il semaglutide Mapix7 che fame di pizza quello sempre Mapix sempre fame di pizza sempre sempre Fader Pio mi attirava di più Baldur's Gate 3 tra i due ma Starfield dal day one sul pass non si batte anche perché se poi non ti piace prendi l'altro e non hai buttato soldi è vero anche questo Fader Pio esattamente ha senso anche cominciare da Starfield no? perché tanto soprattutto se sei già abbonato al Game Pass anche se non lo sei per un mese in offerta Foxabi mi chiede quante ore hai su Starfield non tre tipo tre quattro non ho giocato tantissimo i messaggi in chat devono essere tripla V dice Mapix esatto Mapix esatto preferibile qualunque cosa è preferibile per esempio la camminata è tripla V rispetto a anche se ci metti più tempo però la camminata è più tripla V rispetto a usare la macchina o i mezzi perché non devi fare non hai pesi non hai responsabilità non hai cose da fare per arrivare da una parte devi solo camminare è tipo farming la camminata colazioni yogurt sentiamo Dan Stilo cosa mangia colazioni yogurt greco più 45 grammi muesli più caffè o due fette pan bauletto più due cucchiaini di cioccolata nuovi più latte vegetale più caffè o toast con cotto o crudo eccetera più fetta di provola o toast cotto più uovo strapazzato più caffè sempre un dolce a settimana tutte queste robe però non ho capito bene cioè il pranzo a un certo punto è scattato è tutta colazione questa ah queste sono le colazioni ok sempre un dolce a settimana a colazione sono le colazioni beh sì effettivamente non è che c'è addirittura pure il toast con la fetta di provola uovo strapazzato buono buonissimo quando andavi in ufficio dice potopuc facevo otto piani a piedi in salita eh buono anche quello potopuc non tantissimo cioè al momento è un grande esercizio se è solo quello nella giornata non è tantissimissimo però comunque è buono il piccolo le boschi ok ok provvederò comunque parlavo che starei male due giorni con la cena che dicevi con pizza due birre amari eccetera eh certo beh sì allora due giorni di fila no ce la fai tranquillamente se ceni sempre così è logico che stai male al di là del fatto che poi non ne hai più voglia ma stai male per forza comunque è roba che incide un sacco eh pizza birra amari dolci fritti tutto insieme a cena just things buon appetito walone ma secondo te xbox annuncerà l'acquisizione di square enix al tokyo game show per la felicità di bosca guarda sarebbe molto bello caro just things ehm purtroppo devo sinceramente dire che non credo però sarebbe sarebbe divertente sarebbe divertente proprio vedere la reazione di bosca in metropolitana puoi camminare avanti e indietro dice votopuk cosa che ho fatto ho fatto anche questo votopuk ma non sempre è possibile non sempre è possibile è comodo eh nei treni che non hanno vagoni separati ma aperti no? uniti cioè quelli i treni che puoi fare tutto dall'inizio alla fine ci sono alcuni treni nella metropolitana che hanno questa caratteristica altri invece hanno vagoni separati e quindi camminare avanti e indietro nel vagone potrebbe essere un po' no so un po' strano a livello sociale invece nel treno lungo nessuno si rende conto che c'è un pazzo che sta camminando avanti e indietro perché nel frattempo che ti vede di nuovo che ti sei fatto tutto il treno e sei tornato indietro non si ricorda più che eri tu oppure se si ricorda diciamo questo sta tornando indietro però gli capiterà una o due volte di vederti a ciascuna persona e detto questo non sempre è facile perché a volte i treni della metropolitana sono pieni anche di persone in piedi e non stai veramente camminando se non hai tanto spazio per muoverti vai piano ti sposti non fai una grande attività fisica in quel modo però come vedi non è una cosa che non prendo neanche in considerazione o nella tua e la considero solo una battuta è una roba che ho anche fatto di camminare avanti e indietro nella metropolitana io cammino dovunque uno dei posti in cui cammino di più è la banchina della metropolitana mentre aspetto il treno che arriva cioè la banchina della metropolitana la faccio avanti e indietro se il treno arriva per esempio tra 5 minuti e io me la faccio avanti e indietro cioè quei 5 minuti non li butto anzi quella è una bella camminata intensa la faccio proprio bella spedita e lì me ne frega della gente che cosa può pensare questo cammino non me ne frega proprio niente ma pure la gente pure la gente non gliene frega niente quello io veramente cammino anche in un cortile avanti e indietro diventa anche un po' una cosa che ti viene naturale fare a un certo punto camminare e ne hai voglia io se devo stare fermo ad aspettare voglio camminare nel frattempo se devo parlare con qualcuno al telefono per esempio devo assolutamente camminare non mi piace stare fermo a parlare o fermo ad aspettare voglio camminare mentre non posso fare altre cose quello di andare a piedi a fare visite o commissioni lo faccio spesso dice Dark God o magari metà percorso mi piace camminare però d'inverno d'estate faccio troppa fatica non è un controsenso dice JustInx rispondendo a Mapix che diceva i messaggi in chat devono essere triple AV il concetto di triple AV non consiste nel non leggere di conseguenza non è una contraddizione no non è una contraddizione con JustInx il concetto di triple AV non è non leggere il concetto di triple AV è vai 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 no? e nei videogiochi questa cosa può può coincidere seguimi perché non è bianco o nero cioè è importante sto fatto nei videogiochi questa cosa può coincidere con il cerchiamo di asciugare un posto di dialoghi e giochiamo di più e quindi può coincidere con il leggere di meno ma non è quello il core della filosofia triple AV e soprattutto se invece tu applichi vuoi applicare il concetto di triple AV alla lettura per esempio è ovvio che non è che dici vai triple AV non si legge proprio quindi risolvi il problema no anche una lettura può essere triple AV cioè deve essere senza che tu debba fare altro per interpretare bene determinate cose capito non so se è chiaro questo fatto cioè non è che nei videogiochi triple AV si gradisce che non ci siano troppe robe da leggere troppe informazioni è verissimo questo ma non se tu stai parlando di leggere la chat non c'è quel controsenso cioè applichi la filosofia triple AV a leggere la chat quindi devi leggere fa parte della cosa a cui vuoi applicare una filosofia triple AV in questo caso Pottopuk dice io facevo più o la stazione centrale a piedi quando c'erano gli scioperi non tantissimo Pottopuk però comunque buono più o la stazione centrale a piedi fa vedere quante cioè ciò la centrale sarà tipo mezz'ora di camminata vediamo 24 minuti cioè non tantissimo non tantissimo 1,7 chilometri Fader Pio comunque tutti i napoletani a cui ho chiesto della pizza a Roti Carrette non sapevano nemmeno cos'era mamma mia Fader Pio la domanda è ma chi ta fai ovvero quali sono le persone che frequenti e come mai non hanno questo tipo di conoscenza no scherzo ovviamente è possibilissimo che non cioè non è che nascere in un posto ti rende automaticamente dotato di tutta una serie di nozioni relative a cose ad altre cose che sono nate in quel posto può capitare tranquillamente che che ci siano napoletani non al corrente del fatto che una determinata pizza un determinato tipo di pizza venga chiamata Roti Carrette tranquillissimo sono convinto anch'io che siano un sacco di napoletani all'oscuro di questa denominazione Apal 10 purtroppo era arrivato a quota 107 chilogrammi e in poco più di due mesi ho tolto 14 chilogrammi in poco più di due mesi 14 chili beh forse quando sei molto sovrappeso dipende da com'è la tua struttura fisica quando sei molto sovrappeso all'inizio riesci a perdere peso tanto facilmente quando fai una dieta l'obiettivo è quota 80-85 ho fatto i primi 20 giorni quasi solo proteine poi ho aggiunto i carboidrati tra un paio di settimane passo alla classica mediterranea con pizza al sabato molto bene Apal 10 il piccolo le boschi caspita ma 50 minuti con i mezzi per soli 5 chilometri sono tanti no? io non saprei perché a Roma se non hai la macchina sei perduto sono 50 minuti nel senso che è calcolato il tempo io ho preso proprio due posti due locali nell'esempio di prima e quindi lì viene calcolato il fatto che tu devi andare alla fermata di una roba quindi ci devi andare un po' c'è anche i piedi in mezzo devi andare a piedi alla fermata aspettare l'arrivo della cosa passano altri due o tre minuti scendere alla fermata di arrivo camminare fino alla fermata del prossimo mezzo che devi prendere quindi altri minuti aspettare che il mezzo passi quindi qualche altro minuto prendere quel mezzo poi scendere alla fermata uscire pure se è la metropolitana devi anche entrare e uscire dalla metropolitana comunque è tempo e quindi così si fanno i 40 50 minuti magari i due tragitti con i due mezzi presi sono di 15 minuti e 15 minuti quindi sarebbe mezz'ora di tragitto con i mezzi che diventa 40 50 minuti perché devi raggiungere le fermate e fare le cose anche per questo spesso a piedi invece perché tu vai pam dritto verso dove devi andare non c'è non ci sono cose da fare per percorrere quel quel tragitto a piedi dar god dice io per esempio prendo sempre un unico mezzo il resto del percorso lo faccio a piedi anche perché prendendo più mezzi sprechi un sacco di tempo in attesa bravissimo dar god è esattamente questo il punto ed è tra l'altro una pratica che piace anche a me applicare cioè quando devo andare in un posto che è parecchio lontano e magari ho già un bel numero di passi fatti e quindi non ci voglio andare a piedi perché non mi serve in quel momento andarci a piedi scelgo comunque di prendere un solo mezzo e mi faccio il percorso più lungo possibile col mezzo e il resto lo faccio a piedi sì sono d'accordo su questa cosa qua tra l'altro dar god 77 rinnova il suo abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 19 mesi per questa bellissima camminata digitale insieme grazie dar god molto bello anche questo messaggio un abbraccio digitale grazie del supporto just things io ad esempio lunedì scorso e ieri mi sono fatto comodamente da casa mia a casa della signora a piedi visto che abita 20 minuti a piedi da casa mia piuttosto che prendere l'auto e impiegarci 5 minuti eh sì just things hai fatto bene ho unito l'utile all'utile poi ieri ho aggiunto un terzo utile ovvero quello di mangiare la pizza da una delle migliori pizzerie dell'isola ottimo anche questo ce la fai vedere questa pizzeria così ce la guardiamo un attimo come parcheggiare dice potopuk la macchina si lascia in doppia fila eh sì potopuk infatti però c'è il rischio poi a quel punto è sempre un rischio che a piedi non hai poi se vai a piedi da pizzeria da pizzeria A a pizzeria B dice mapix ti mangi due pizze non la sottovalutiamo questa cosa no ma è normale che l'inquadratura è leggermente inclinata verso sinistra sì just things cioè è normale diciamo è così non so se sia normale ma è così sono cambiate un po' di robe sulla scrivania adesso la roba si trova così ne parlavamo ieri e abbiamo deciso che un po' ci può anche piacere poi chiaramente gusti personali Milano è camminabile esatto dice Mowlin's 83 sì totalmente camminabile innanzitutto è tutta pianeggiante e poi è piestra piena di marciapiedi spazio per camminare è pensata anche per camminare anche questo è molto importante semafori pedonali cioè è fatta per camminare e e in più le distanze tra i posti interessanti non sono devastanti sono percorribili a piedi anche per chi come me abita in periferia in un quartiere periferico come Afori comunque vabbè io perché perché a me piace proprio un sacco camminare io mi sono fatto anche Milano tutto da da nord a sud in una sola camminata più volte più volte in un sacco di occasioni sono tornato per esempio a casa ad Afori dai navigli a piedi sono circa 9-10 km e perché per passeggiare per fare chiudere la serata con una lunga passeggiata ma anche fare dei pezzi a piedi è abbastanza se sei in giro in una giornata devi andare in due posti diversi sono tutte e due abbastanza centrali non proprio al centro centro-centro però insomma intorno al centro è difficile che tu non possa farlo a piedi avendo voglia di camminare tranquillamente oracolo oracolo di delfi 88 carai bi wallo sto giocando baldurs assurdo che gioco sono molto contento oracolo di delfi che ti stia piacendo io come dicevo prima ho preferito iniziare starfield e rimandare baldurs gate a un periodo successivo però sono contento che sia un bel gioco perché così c'è un altro bel gioco da giocare poi devo sempre capire se mi può piacere ma ave ieri troppo spento dice dan stilo attenzione interessante questa cosa forse era un po' stanco era ah no no ma ave dice che eravamo in quattro per questo era un po' spento perché in quattro giustamente si deve fare un po' a turno a parlare ci sta just things di nuovo chiede cioè vuoi giocare a baldurs gate 3 ma non c'è troppo da leggere secondo i tuoi gusti io non ho problemi con la lettura just things non ho particolari problemi con la lettura dipende dal da come anche da come è scritta la roba non è una cosa che non ci sono troppi compartimenti stagni e e non ci sono troppi paletti irremovibili nelle nelle mie scelte di intrattenimento o anche proprio anche nelle mie scelte di vita tra l'altro questa è una cosa che consiglierei a molti di controllare cioè se vi rendete conto che troppo spesso sapete già credete no? di avere la convinzione che ah tanto già so che questa cosa non mi piace ah tanto a me non piace quando una cosa è così non vi crogiolate in questo fatto è un consiglio che do non vi crogiolate tanto in questa roba ma lasciate sempre anche proprio tra voi e voi stessi il dubbio che un qualcosa che normalmente non vi piace possa invece a un certo punto piacervi lo stesso non è più bello secondo me avere questo tipo di approccio un po' più aperto e dire guarda tendenzialmente in passato una cosa così generalmente non mi è piaciuta non so magari stavolta potrebbe essere diverso e provare è meglio secondo me è meglio invece ragionare sapendo e applicarlo anche a quello che si pensa delle altre persone il fatto di eh no a me piace solo quando la luce è spenta a me piace solo se non c'è il sale a me piace solo questo a me piace mi ha detto una volta che non non ha non gli è piaciuta quella cosa quindi deve essere uno a cui non piace la pizza no no non la pensiamo così non è meglio lasciare aperte molte più possibilità e sì sono abbastanza convinto di questa cosa lasciando aperta la possibilità di poter ricredermi perché ovviamente altrimenti si creerebbe un un controsenso semaglutide farmaco per il diabete che fa passare la fame e quindi dimagrisci dice grazie potopuc per la spiegazione si dice che Elon Musk ne abbia fatto uso bella anche questa aggiunta eh sì ma se mi dite che la camminata è tripla v perdo l'entusiasmo nel farla dice giocino addirittura eh invece no dovrebbe piacere la camminata è bella veloce cioè istantanea no non devi perdere entusiasmo nel farla Edoardo Rizzi Caraibi Walo appena finito Alan Wake Remastered mi manca mi mancava e grazie al PlayStation Plus ho potuto recuperarlo e poi appena riesco vado di Control sempre nel PlayStation Plus tu li hai mai giocati? ho giocato Control ho recensito Control mi è piaciuto molto Alan Wake all'epoca non l'avevo giocato e non ho ancora giocato la Remastered e Control bello bello molto interessante proprio ma anche particolare una roba ma anche singolare secondo me giocatelo Siramus ma infatti quello che stavo per dire della gente io me ne frego esatto fin quando non si sta facendo nulla di male l'opinione della gente conta niente sono molto d'accordo Siramus comprendo che a volte soprattutto in un mondo come il nostro uno magari ci pensa a dire adesso mi guaccio c'è anche il rischio che qualcuno boh non lo so dice ma perché che stai facendo stai facendo qualcosa di strano si preoccupi capito un po' un po' viene da pensarlo però si sono d'accordo in linea di massima chi se ne frega di quello che pensa la gente se come hai detto tu giustissima precisazione fin fin quando non si sta facendo nulla di male naturalmente immagino Wallone nel cortile di una prigione a fare giri su giri anch'io potto puck mindulino caraibi dark god 77 anche io al telefono o aspettando l'autobus cammino sempre infatti odio le code fermi in piedi per me sono la morte sì mamma mia veramente la morte anche per me ma proprio in genere lo stare fermi ad aspettare qualcosa è terribile io capisco che tu vuoi esporre un concetto dice just things però non puoi mettere in una frase bianco e nero quando parli con me mi offendo ti chiedo scusa just things sd z play ieri ho provato a lanciare starfield e il vecchio pc classe 2013 con solo una rtx 2060 come upgrade a dettagli bassi tiene botta comunque torno su baldur's gate 3 molto bene sd z play l'ho finito pochi mesi fa dice mindulino probabilmente control e mi è piaciuto molto nonostante antiquato sotto certi aspetti e invece per quanto riguarda le camminate a me piaceva fare i chilometri a piedi a milano ora ho la bici elettrica la bici elettrica è una roba molto figa per spostarsi in città però secondo me è soprattutto ottima per coprire distanze in tempi ragionevoli mentre andare a piedi è attività fisica proprio uzumaki kun caraibi perdi i liquidi subito dice paris quando sei molto sovrappeso vi pega buon pomeriggio a tutti caraibi a te caraibi demix 231 giusto stasera andrò da marghe mi sa attenzione demix molto bene molto bene uzumaki kun intervengo intervengo perché lavoro nel settore è vero all'inizio è più facile comunque è un dimagrimento eccessivo consiglierei un nutrizionista in che modo lavori nel settore uzumaki kun just things ualune ti ricordi un noto content creator che usava la camminata per registrare un podcast ti ricordi il suo nome si me lo ricordo just things non lo sento da un po' in effetti non so che cosa mi fa credere che a un certo punto questa abitudine potrebbe anche riprendere comunque hai fatto bene a ricordarmi anche io l'avevo un po' cioè quasi non ci pensavo più però è vero me lo ricordo bene anche potopuk parla di monopattino elettrico no? tipo bici elettrico un minimo di sforzo in più lo fai anzi dice The Mix ho deciso di andare da Gennaro Rapido The Mix non ci sei mai stato? se è la prima volta da Gennaro Rapido ottimo secondo me ti piacerà tantissimo Shepard91 Caraibi oracolo di Delfi 88 camminare e OP Shepard91 hai rilasciato la live di ieri pomeriggio tu personalmente sei soddisfatto dei nuovi hai riascoltato la live di ieri pomeriggio no Shepard per l'audio no non l'ho fatto tu personalmente sei soddisfatto dei nuovi filtri audio del mic non l'ho fatto devo farlo bravo devo riascoltare riascolterò anche quella di oggi a te come sembra oggi l'audio perché anche oggi è settato allo stesso modo di ieri è sempre la rosa dei venti dice Just Things la pizza la pizzeria dove è andato a mangiare probabilmente l'abbiamo già vista no però riguardo un attimo allora questa foto non si è caricata bene neanche questa che c'è a Google che non carica bene le foto anche dalle foto non caricate bene la pizza sembra molto invitata la contemporanea con cornicione molto pronunciato per la gioia di Silver Brain ma mi viene voglia proprio di mangiare questo cornicione un stacco non ho perso il fascino della pizza con i salumi non ne mangio per scelta di alimentazione e proprio forse questa cosa ha influenzato la mia percezione del tutto e anche esteticamente per esempio una pizza come quella in foto non mi piace questa comunque questa invece mi piace anche mi piace anche immaginare cosa può esserci nei cinque spicchi della nelle cinque punte della stella bella anche questa comunque però non capisco perché google non carichi bene le foto comunque sembra proprio una bella pizza just things fiurri buonasera benvenuto re dei popcorn mai fatto camminate tipo bologna firenze o roba simile io feci io lo feci anni io lo feci anni fa ah feci anni fa il sentiero degli dèi e fu stupendo no mai fatto robe di questo tipo così lunghe re dei popcorn penso che mi piacerebbe però è una roba che richiede una certa organizzazione comunque io sulle organizzazioni ci vado sempre molto piano prefisco le robe immediate la camminata normale è un fatto triple av i cammini organizzati così magari sono un po' meno triple av però possono avere delle parti molto belle lo credo baldurs è un gioco fuori parametro e non sono un appassionato di crpg una calamita dice scatole cinesi wow molto interessante questa cosa che dici soprattutto per uno che non è appassionato di giochi di ruolo per computer interessante caraibi silverbrain eccolo qua si parlava di cornicioni eccezione fatta per astral chain dice scatole cinesi stai dicendoci che tra un po' esci per comprare una copia fisica di qualche gioco per vedere che effetto che fa dice silverbrain no non ne ho bisogno silverbrain conosco conosco già l'effetto conosco l'effetto di comprare una copia fisica di un videogioco l'ho fatto per tantissimi anni quindi so bene com'è non mi sto perdendo niente che non abbia già conosciuto secondo questo ragionamento anche vito potrebbe giocare a baldur's gate 3 sì ma certo ma infatti secondo me è netto che anche vito potrebbe farlo scatole cinesi sì ramus è successa la stessa cosa a me baldur's non lo volevo giocare perché era a turni e alla fine l'ho provato e ci ho giocato ininterrottamente fino a finirlo per tutte le ferie ora con starfield non volevo giocarlo per tutto quello che avevo letto e sentito in rete e poi ieri sera lo provo e sono andato a letto tardissimo con il tempo a parte se sono cose troppo evidenti anche se leggo e mi informo alla fine devo essere sempre io a giudicare il prodotto mi sa di sì caro Siramus mi sa proprio di sì è molto importante secondo me questa questo aspetto dell'approccio alle opere di creatività all'intrattenimento eccetera il tuo modo di fruire delle cose di guardare le cose di godere delle cose di interagire con le cose è il tuo modo anche Uolone ha detto che non gli piace il fisico ma sotto sotto dice Potopuk ma io conosco il fisico però non è che non l'ho non l'ho mai provato e comunque sì è vero potrei cambiare idea ragazzi assolutamente è così cioè non è che non è cambiare idea potrei trovarmi in una situazione di vita di cose diversa o potrebbero cambiare determinate cose nella distribuzione metti dei videogiochi per cui boh il fisico potrebbe diventare interessante sì certo assolutamente non è una cosa che escludo escludere robe a priori non ha non ha non ha senso non ha tantissimo senso perché non cambia niente non farlo e quindi sì perché no oggi comprerei un gioco fisico no non ho voglia di farlo non lo faccio è proprio una cosa che non posso fare o che secondo me non potrò mai fare ma va assolutamente no può capitare certo lo faccio no non lo sto facendo però è più una descrizione di come mi comporto che un dogma da seguire non lo faccio nel senso che non lo faccio mi trovo bene con con il digitale conosco com'è comprare i giochi su supporto fisico e quindi so che non mi interessa farlo al momento potrebbe in futuro tranquillamente 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 ringraziamo amici di giula per il ride grazie grazie un abbraccione digitale a giula e agli amici di giula dove a proposito di di ma neanche tanto di giochi fisici necessariamente a proposito di giochi da tavolo giochi non tanto video il canale di amici di giula è molto interessante per chiacchierare di queste robe di board game e simili e quindi adesso noi lo shoutiamo amici di giula eccola qua andate a lasciare un follow al canale di amici di giula se vi interessano anche andate a lasciare un follow e poi così potete scoprire se vi interessano giochi da tavolo board game e robe simili il sodoma caraibi il piccolo le boschi purtroppo siamo animali sociali quindi sotto sotto un po' il pensiero ci va sempre a quello che gli altri dicono esatto lo sostengo anch'io questo ma assolutamente non deve essere un'ossessione e su questo siamo d'accordo al 100% secondo me non solo non deve essere un'ossessione non deve essere neanche un gran pensiero cioè io posso capire che venga spontaneo un minimo chiedersi cosa penseranno di me però non solo non deve essere un'ossessione ma non deve essere neanche un pensiero guida in quello che si fa Perseptron per me dipende se aspetto con amici e la chiacchiera è piacevole il tempo vola anche se sono in piedi ah no vabbè certo Perseptron ovviamente la chiacchiera senza altro certo la chiacchiera vince un po' su tutto nelle attese HJ buongiorno volone cara BH ci vediamo sabato prossimo al Palermo Comis oh mi fa molto piacere HJ assolutamente ci vediamo ci vediamo lì è sabato prossimo cioè siamo già ci siamo già sì non è domani ma la settimana prossima wow figo però aspetta non ci sei venerdì sì ma comunque ci sarò anche sabato sicuramente nella mattinata nel primo pomeriggio ci sono anche sabato poi la sera ho l'aereo quindi a un certo punto dovrò andare il 15 invece ci sono tutto il giorno perché arrivo il 14 sera così lo dico per da Gennaro Rapido mai stato dice il mix fantastico vai lì nettamente nettamente da Gennaro Rapido occhio solo a una cosa il difetto che io ho riscontrato qualche volta nelle pizze di Gennaro Rapido è una il rischio di acquosità della pizza che a me non piace come caratteristica quando la pizza è molto acquosa molto anche quando è particolarmente acquosa non mi piace è una cosa che odio proprio sulla pizza e siccome lui ha le versioni doppia mozzarella di alcune pizze te le sconsiglio non scegliere la mod doppia mozzarella per le pizze che la propongono perché aumenta il rischio di acquosità è un suggerimento per non incappare in questa roba quando si va da da Gennaro Rapido per il resto la pizza è veramente super super buona shepard 91 io comunque capisco cosa si prova a giocare a baldurs non ci ho giocato ma avevo giocato a divinity 2 si possono fare alcuni movimenti con i personaggi che escono fuori dagli schemi e mi mandava intilti il cervello essendo abituati alle strutture molto guidate dei giochi ottimo shepard si in effetti è super interessante questa cosa io ho uno studio dice Uzumaki Kun di nutrizione sportiva e personal training molto bene Uzumaki Kun allora beh parliamone di queste cose la pizza a rota e carrette l'ho già mangiata però dice The Mixed With Throne ah si come minimo da probabilmente da Michele a a Verona no? forse ne avevamo anche già parlato si quello è il formato shadow of love aggiornamento sulla mia situazione mutuo in Starfield sentiamo sono finalmente entrato nella casa e ho scoperto che devo pagare 500 crediti a settimana ogni volta che varco la soglia oppure pagare direttamente 125.000 crediti nel caso non avessi soldi semplicemente non mi apre la porta finché non pago la rata aiuto interessante shadow of love era proprio quello che volevo sapere grazie per l'aggiornamento molto bella questa cosa diciamo è un po' come mettersi un modificatore di difficoltà interessante al gioco bello dai però in cambio hai la casa se riesci a pagare The Mixed 231 certo che quando la Zir fa un cornicione così bisogna sentirsi brutte persone a non mangiarlo eh si eh si cioè tipo se il cornicione è il 30% della pizza cogli gli indizi Per Septron da ignorante vorrei chiedere qual è l'opinione generale sulla ricotta o formaggi vari nel cornicione personalmente mi sembra un po' pesante però sono curioso di sentire cosa ne pensano gli altri giriamo la domanda a tutti il famoso cornicione ripieno spesso di ricotta a volte di provola eh in alcuni casi anche con tanta altra roba così però i giorni più diffusi sono numero uno ricotta numero due provola a volte fior di latte anche e a me piace beh è una roba abbastanza porca non può non piacere però anche secondo me è abbastanza pesante se ho voglia di di pizza magari non non prendo una pizza cioè se ho voglia proprio del sapore della pizza e questa cosa mi capita spesso non non prendo il cornicione ripieno di ricotta però in alcuni casi invece mi può andare comunque si è pesante decisamente wow lo sto giocando a next macchina dice che j walter 5586 oh a proposito di giochi triple b vi sono perso una perla di gioco vai 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 in questi anni mi ricorda tantissimo ovviamente returnal per gli effetti di luce ah interessante non avevo potuto pensarci all'epoca quando l'ho giocato next macchina quando l'ho recensito perché non non esisteva returnal non era probabilmente neanche un forse era un'idea nella testa di di alcuni dei membri di di housemark però non più di quello e effettivamente effettivamente returnal prende molto proprio da next macchina è next macchina in terza persona per certi aspetti in alcune situazioni returnal è molto next macchina in terza persona cioè anche next macchina è in terza persona però con un visuale dall'alto returnal vero bello bella sta cosa bello aver giocato nel tuo caso KG e Walter aver giocato next macchina dopo returnal e quindi pensare a questo fatto mi piace silverbrain ma magari tutti avessero sta propensione a cambiare idea la coerenza è un valore sopravvalutato a tratti inutile in certi casi dannoso allora aspetta però la coerenza è una bella cosa cioè ma la coerenza non significa il cioè il fatto di non cambiare idea non è coerenza la coerenza vabbè funziona cioè se tu dici un fatto e mentre lo stai dicendo ti contraddici è un po' folle cambiare idea non è necessariamente una contraddizione con qualcosa che stai dicendo e cambiare idea dire aspetta prima la pensavo così cioè sapere tutto in mente contemporaneamente sta cosa invece l'incoerenza del tipo che ne so mi piace mi piacciono i carboidrati quindi mangio spesso la carne tipo così questo non è cambiare idea è avere le idee un po' confuse invece la coerenza nel momento è una roba figa comunque sono d'accordo con te il cioè più che la coerenza il aspetta voglio cercare il termine su la costanza tipo in indeterminato oppure l'aderenza fissa a un certo tipo di pensieri anche secondo me è un valore sopravvalutato e a tratti inutile e in certi casi dannoso sono molto d'accordo con questa cosa silverbrain e sono d'accordo che sarebbe bello se un po' tutti avessimo una maggiore propensione al poter cambiare idea ma neanche cioè non è che puoi cambiare idea rinnegando certe cose no proprio capire che in diversi momenti si possono fare cose diverse o che c'è sempre la possibilità di capire che qualcosa che si faceva magari poteva essere fatto meglio magari con un altro punto di vista ti fa vedere una cosa nuova e allora tu cominci a sposare anche quella possibilità cioè questo è proprio bello assolutamente sì è nettamente auspicabile anche secondo me che più persone la pensino in questo modo Shepard91 Caraibi il piccolo Le Boschi ah Walo da Campano quale sei volevo chiederti una cosa noi a Roma chiamiamo un tipo di pizza napoletana ma non perché sia quella con il cornicione ma per il condimento che è rossa con alici però ho saputo da poco che voi la rossa con alici non la chiamate assolutamente così anzi non avete proprio una pizza che si chiama napoletana è vero e allora c'è molta se non sbaglio addirittura il piccolo Le Boschi no comunque sia cioè a Napoli non credo esista il nome napoletana cioè non è molto tradizionale il nome napoletana per un certo tipo di pizza mentre come sta dicendo aspetta scatole cinesi c'è forse il fatto di chiamare romana la rossa con alici forse anche capperi olive e in alcune pizzerie non so adesso più se a Napoli o da altre parti la Napoli invece è con fior di latte e alici capperi origano eccetera e questa pizza tra l'altro è una pizza che mi piace anche molto la che praticamente è una marinara con alici capperi olive aggiunta di fior di latte è una pizza molto buona mi piace tantissimo anche la marinara con alici che poi è la quella che a Roma chiamano napoletana come stai dicendo anche quella mi piace mi piace molto comunque il piccolo le boschi non te lo so dire bene questo fatto perché ho mangiato pizze a Napoli a Milano in altri posti eccetera e ho capito molto velocemente che i menù possono avere delle differenze di questo tipo e per dire te ne dico un'altra nelle pizzerie di pizza al taglio romana si chiama marinara una pizza che non è la marinara napoletana parlando sempre di condimento perché la marinara è semplicemente pomodoro aglio origano basilico e olio e invece la marinara che ho a volte ordinato da pizzerie di pizza al taglio romane è una roba con altri fatti anche cioè si chiama marinara ma non era la marinara si ci sono nomi diversi non li conosco bene tutti questi generalmente è comodo che nei menu delle pizzerie ci siano anche gli ingredienti sotto ai perché poi ci sono quelli che fanno prima facevo l'esempio dell'anerano in alcune pizzerie l'anerano comprende la pancetta che non c'entra tanto con gli ingredienti che dovrebbero caratterizzare l'anerano è però si chiama nerano non nerano con pancetta si chiama comunque nerano sempre su starfield dice shadow love sto anche purtroppo subendo un fenomeno di recessione walonica da pre hype in pratica sto provando la stessa sensazione che hai provato tu con diablo 4 in mano avendo molto hype per starfield ma adesso pad alla mano non ho moltissima spinta a giocarci aglia questo è un brutto fenomeno shadow love siccome mi ricordo proprio perfettamente quello che ho provato io con diablo 4 mi dispiace un sacco quando succede sta cosa magari con starfield può cambiare con diablo 4 poi perché io ci ho giocato pure decine di ore per arrivare anche a questo e non per arrivare subendo questa sensazione nel corso delle 30 40 forse anche più ore che che ci ho speso magari con starfield la cosa può può cambiare perché può essere che andando avanti nel gioco ci siano delle delle robe che riescano a renderlo meno monotono un diablo è più difficile sta cosa quindi ti auguro che con starfield possa esserci una svolta un certo una svolta positiva a un certo punto è il 2050 entri in un gamestop e trovi Walone come commesso che ti consiglia dei giochi fisici questo è il disegno di quello che immagina Siramus molto bello questo quadretto verrai a San Donà di Piave Comics ti hanno invitato per caso vicino a Venezia chiede Shepard91 no non mi hanno invitato Shepard91 sì potrei ci verrei penso di sì poi vicino a Venezia perché no la quosità dipende dalla mozzarella serve quella con poca acqua dice Pottopuk non c'è il rischio che prendessi doppia mozzarella dice The Mix ma grazie del consiglio sì sì ottimo allora ma allora vai abbastanza tranquillo Perseptron magari i mutui funzionassero così anche nella realtà dice Perseptron cioè che non ti fanno entrare in casa se non lo paghi insomma cioè che ansia il mutuo a Starfield dice MapX7 Starfield dà le proposte Soros nei tratti esatto Doom lo dicevo ieri bravissimo hai colto questo fatto che avevo notato anch'io che ci sono proprio le proposte Soros nei tratti i tratti sono le proposte Soros hai la capacità di correre più forte ma non riesci a vedere bene alla tua sinistra adesso non mi ricordo li ho rifiutati tutti tra l'altro il cornicione ripieno è mangiabile dice Silverbrain beh si Silverbrain certo Silverbrain tu questo fatto vedi tu che dici magari cambiare idea dovresti provare il cornicione cioè tu veramente dovresti provare il cornicione a farlo tuo come fatto a dire vabbè ma tutto sommato è vero questo è proprio buono quello di certe pizze è proprio buono anche proprio solo il cornicione è buono ma puoi mangiare la pizza insieme cioè quello che sai qual è la cosa più strana del fatto di lasciare il cornicione e che secondo me è una roba un po' premeditata cioè tu tagli la parte invece se tu mangi la pizza tagliando la fetta e prendendo la fetta in mano ma non ma non ti viene da lasciare il cornicione cioè non ti viene proprio normale lasciare il cornicione dovresti provare questa cosa qua dovresti provare questa cosa cioè prendi la fetta di pizza in mano e mangiala fino in fuoco cioè la hai in mano e butta tutto in bocca non ti viene da lasciare il cornicione in quel caso in ogni caso Silver Brain a te sicuramente piacerebbe la pizza a roti carrette di cui parlavamo appunto in Gennaro Rapido e altri eccetera la mia preferita di questi anni è quella di 0.0 a Casoria e aspetta ti voglio far vedere le foto dell'ultima volta che ci sono stato da 0.0 a Casoria con Mave e altri amici ecco qua allora secondo me questa Silver Brain tu la mangi tutta cioè qua vedi per esempio guarda queste parti qua qua non c'è cornicione questa è questa per dire questo è il cornicione secondo me questa la mangi tu cioè come fai a scartare questo centimetro è inutile no? ragazzi buonissima questa questa pizza è una grandissima Zirfar questo è il video che avevamo fatto con Foxabi guardate che belle fette di pizza a roti carrette mamma mia ragazzi che voglia di questa pizza di 0.0 veramente fantastica guardate che figata anche questo anche questo scenario questa immagine questa scena la situazione di condivisione di quando andiamo da 0.0 generalmente prendiamo come antipasto una marinara una margherita e una provola e pepe le mettiamo al centro del tavolo tagliate a fette e poi prendiamo varie fette per assaggiare tutte e tre e poi magari si continua o condividendo altre pizze oppure a quel punto ognuno si prende la sua pizza che vuole poi ci sono degli scambi anche però questa scena qua è una scena molto bella secondo me di condivisione di pizza e le pizze sono bellissime e queste secondo me questo tipo di cornicione lo mangia anche silverbrain il fatto che la pizza contemporanea però abbia un cornicione molto più abbondante della pizza roti carrette non dovrebbe come dire allontanarti dall'idea di mangiarlo perché comunque è vero è più grosso come cornicione ma è molto più leggero e anche saporito dovresti troppo silverbrain davvero a quel punto prendi il calzone dice scatole cinesi ci sta assolutamente tra l'altro abbiamo assaggiato pure un calzone buonissimo sempre da 0.0 io al ripieno di ricotta preferisco questo cosa preferisco the mix ah questa roba con con l'hot dog il cornicione come hot dog bello un po' meno pizza come come gusto generale però è una bella porcata decisamente la coerenza non preclude l'evoluzione personale esatto dar god è quello che volevo dire anch'io mv93 a proposito di zirfe vorrei cambiare dal solito condimento marinara pomodorini e stracciatella o cicoria e salsiccia hai qualche suggerimento ualone purtroppo non riesco a mangiare la mozzarella ma dove pizza che fai tu in casa mv93 o vai nei posti e te la prendi così purtroppo non riesco è